Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove si segnalano code in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna e rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il Vivio con la variante del Balico verso Bologna per traffico intenso. Rallentamenti a causa di un veicolo in avaria anche tra Firenze Sud e in Cisaregello in direzione Roma. In A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Code anche in Fipilì sempre a causa del traffico intenso alla Strassigna in uscita provenendo da Firenze e tra la Strassigna e Firenze Scandici in direzione Firenze. Firenze per smontaggio luminaria e restringimenti fino al 30 gennaio in Viale Lavagnini, Viale Matteotti, Viale Gramsci e Piazzale Donatello in orario 9, 16 e 45 dalle 21 alle 7 del mattino. Muoversi in Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!